Hai problemi di spazio e non sai dove conservare i tuoi imballaggi? Hai bisogno di prodotti economici per confezionare i tuoi prodotti? Ti occorre un'elegante carta da regalo per le tue vendite? Linea carta a bova marina, carta, plastica monouso, buste, sacchetti, box pizza, forniture all'ingrosso per bar, ristoranti, pizzerie, pub, panifici, macellerie, pescherie, frutta e verdure e tante altre. Consegne veloci, con prezzi competitivi. Chiamaci e diventa anche tu nostro cliente. Non devi fare più scorte di magazzino. Ci pensiamo noi a consegnarti subito la merce senza farti carico di giacenze inutili. Linea carta a forniture a bova marina, ufficio vendite in via Hermada 3. Telefona e sarai servito subito chiamando allo 0965 760204 oppure al 393 08 13 569.